Oggi sono qui al campo sportivo di Quiliano, Quiliano Trauer del lancio sportivo di Asce di Coltelli. Avevo conosciuto questo sport e il campo un anno fa, nell'estate del 2022, e poi esattamente un anno fa, nel settembre del 2022, iniziavo a frequentare qui il campo facendo le lezioni di prova. Poi, visto che mi sono appassionata a questo sport, l'8 di novembre del 2022 mi sono tesserata. La mia esperienza qui al campo e con il lancio è molto positiva e frequento sempre regolarmente, almeno una volta alla settimana, per un'ora. La mia esperienza è molto positiva, sto imparando bene, per adesso soltanto con il lancio delle coltelli. E poi vedremo adesso anche con il lancio delle mosce. È uno sport adatto a tutti, sia uomini e sia donne. Ed è dedicato anche a tutte le fasce di età e non richiede particolari requisiti fisici. Io in questo anno mi sono trovata bene e continuerò sempre a frequentare qui il campo. È un'esperienza positiva per me perché mi sono avvicinata a uno sport, avendo 33 anni, mi sono avvicinata da un anno a questo sport. Consiglio a tutti di venire a fare una prova qui al campo sportivo, qui di Anotrawers, lancio sportivo, asce e coltelli. E chi vorrebbe fare una prova potete contattare i contatti segnati qui. Continuerò sempre a tenervi aggiornati con i video, sia i video settimanali, dove riprendo sempre il campo. E poi vi terrò anche aggiornati sui miei progressi, sia con i cortelli, sia con le asce. Un saluto a tutti dal campo sportivo, qui di Anotrawers a Pugliano. Grazie a tutti.